Siamo molto contenti con i primi giorni, adesso al secondo giorno già vediamo. Abbiamo in totale 900 marchi alla GDS, di cui sono più di 230 marchi italiane di qualità alta e questo è molto bene. Abbiamo degli visitatori di tutto il mondo e abbiamo sentito degli espositori che sono molto contenti con l'internazionalità della GDS perché hanno visitatori di Scandinavia, però anche di Arabia e per questo vediamo, però al momento siamo contenti. Questa è la terza edizione con i nuovi dati. Pensiamo che sono i dati giusti perché è molto importante all'inizio della stagione di avere informazioni giuste e i visitatori ci dicono che sono molto contenti perché qui alla GDS trovano le nuove collezioni e dopo possono dire quali sono i marchi che vogliono e quali no. Con la GDS e con i nuovi dati siamo i primi appuntamenti per la nuova stagione, per i tendenzi e l'amora e questo è che i visitatori che è il cano. Grazie a tutti.